Mi deludi, mi deludi, cara mia, sono proprio deluso. Sono uscite delle nuove armi e tu non ne sapevi nulla. Non eri la maestra delle armi da fuoco? Non eri la grandissima esperta? Non eri quella che non falliva un colpo? Eppure sono uscite le armi migliori mai create su GTA 5 e non ne sapevi nulla. Come ti giustifici? Allora, l'ho scoperto un po' in ritardo, ok? Perché gli ultimi video che abbiamo fatto, Steph mi ha fatto preparare un po' di gare, quindi ero distratta a preparare le gare e non mi sono resa conto che erano uscite dalle armi bellissime. Ma tu non hai due scagnozzi che ti avvisano di tutto? No, Steph, ti uccisi. Fatti ammazzare la poesia in fretta perché non ho voglia di avere nulla a che fare con le tue scemenze. Cosa stai tirando? Granate. Perché? Perché faccio esplodere tutto, Steph, sono arrabbiata. Impaia a farti uccidere. Muoviti. E non si muovono, Steph, sono degli incompetenti. Ti hanno investito, l'ho visto benissimo. Perché lei deve... Bene, calmati. Mi uccidono però esplodono. Ma non ti uccidono se li fai esplodere. Perché sono degli scarsoni, non so un po' li recca a sparare, Steph. Quanto ci devono mettere, secondo te? No, non so. Cioè, portami un caffè, una brioche, Steph, perché qui la tirano per le... Sono tornati in auto? Davvero? No, no, sono lì che si coprono. Bravi. Da cosa? Ad un bersaglio fermo? Ce l'hai fatta? Comunque, andiamo a vedere queste bellissime armi. Cosa c'è, Steph? Allora, prima di tutto, quanti soldi hai? Forse molto pochi, non lo so. Perché faccio di tutta la splendida che eri ricca quando hanno messo i veicoli? Eh, gli ho pochi... Vabbè, mi bastano. Dai, 10 milioni ti bastano, ti bastano. Lo spero, perché di solito le cose nuove costano un botto, Steph. Dovrebbero costare mezzo milione ogni arma. Eh, appunto. Che è molto per le armi, però... Direi. Ce la possiamo comunque permettere. Comunque, Steph, è una cosa importantissima da farti vedere, la vuoi vedere? Il supporta creator? Ma quella non c'è qua a fare. Non c'è qui, Steph. È il mio nuovo outfit. Ah, ok. Ho trovato dei vestiti bellissimi, quindi li volevo far vedere a tutti quanti. Ma ancora la gente vuole vedere le nuove armi? Eh, lo so, Steph, sto arrivando, mi ha fatto spanna dall'altra parte dell'isolato. Allora, io vi faccio gli acquisti, poi guardo i tuoi vestiti inutili che a nessuno interessano. Oh, allora, abbiamo questa. Ok, la posso anche colorare. Scegliamo il colore più bello. Eccomi qua, finalmente. Sapete che forse il colore originale è il più carino? Sì. Vediamo, dove sono quelle nuove? Poi, tutta a destra. Ok, munizioni, siamo già al massimo. Ma tutte queste? Colore. Allora, questo devo dire che è fantastico. Li vedete gli alieni? Che spettacolo. Compriamo l'arancione. Allora. Che ci può stare, perché il colore base è davvero brutto. Però mi piace questo. Munizione al massimo. È decisamente meglio. E poi sto cannone. Munizioni al massimo. Ma non riesco a finirle. Quantità munizioni. Massimo di munizioni. Ecco qua, si può fare, Steph. Non c'è bisogno se premi spazio. Così non devi stare a premere in viola. Prego. Poi, colorazione. Eh vabbè, che ganza. La facciamo, questa la facciamo arancione. Ok, dovrebbero essere queste tre. Credo che questa sia ad esempio vecchia. Non c'è decisa, questa. Sì, dovrebbe essere vecchia. Bellissima. Poi, c'è qualcos'altro qua sotto che magari non conosciamo, che hanno giunto? Non mi sembra. No, 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 no. Questa non è l'automizer, la pistoletta, non è a munizioni? La pistoletta non è a munizioni. Io non l'ho vista, boh. Boh, non lo so. Aspetta, bello questo! Bello, Steph! È pieno di roba. Aspetta, vediamo il colore anche di questo. Tre armi sono a fare. Cosa ti è successo alle gambe? Che vuol dire? Non lo so, Steph. Ok. Non ho un problema che mi... Questo lo prendo platino, vai. Beh, sì, che è un problema che ti riguarda. Ok. Ok, è tornata in vita. Ti dicevo, guarda, Steph, ho le scarpe nuove, che praticamente hanno il led nelle suole, questa lucina blu che vedi, si illumina al buio, quindi sono grandissime, troppo belle. Esatto. Che io da bambina non le ho mai avute, quindi su GTA me le sono dovute assolutamente prendere. E le ciambelle. Poi hanno fatto GTA, la Rockstar ha deciso di fare una felpa apposta per me. Sì. Chiamava felpa di Fere nello show. Sì, davvero. Ti ho capito? E beh, ovvio. Sei sempre credibile. Per chi vuol che sia, la felpa con le ciambelle, Steph. Allora, siamo pronti. Sicuramente per te, Fere. Su che tasto li trovo? È quello che sto cercando di scoprire. Allora, alcune sono su sette. Sette. Ampia levastatrice. Di che colore l'hai fatta? Aspetta. Viola. Ci abbiamo... Ah no, ok, diversa. Ah, tu l'hai scelta rosa. È una molto bella. Vado? Uh. Ma è l'arma degli alieni questa. Sì, beh, ci sono anche gli adesivi degli alieni nella parte di pietra. Eh, ok, l'avevo visto, però non pensavo così tanto. A parte che sembra fortissima. A parte che sembra esageratamente forte. Voglio vedere in quanto fa esplodere un veicolo. Vediamo? No, no. In un bel po', dai. No, dai, quindi non è esageratamente forte. Esatto. Io stavo sparando. No, Steph, l'hai fatta apposta. No, Fere. Inizia un duello. Fere, abbiamo... Inizia un duello! Cos'è? Non l'accetti perché hai paura, Steph. Iniziamo il duello. Hai paura? Hai paura? Da dove si accetta il duello? Allora, dov'era? Dov'è? Dov'è? Fatemi vedere un attimo. Ho riperso la mia arma. Inizio al duello. Con l'arma aliena, Steph. Cinque minuti, obiettivo cinque kill. Duello! Allora. Perché mi hai tolto cento? Vediamo un attimo. Ti ammazzo, gioco. Grazie, grazie, grazie. Sì, sì, si è capito chi... Chi è il più forte su GTA V. È al meglio di cinque. Non cantare vittoria. Ma sono bassissima, quindi questo round lo vinci te. Ovviamente avevo uno sputo di vita. Vabbè, Steph, si può chiudere sto duello? Cioè, mi divertivo all'inizio, però adesso basta. C'è nessuno che ha più voglia. Allora. Ti sto venendo a cercare. Anche perché sembra che la polizia non ci ascolti mentre stiamo facendo il duello. Giustamente. Aspetta, Steph. Devo cercare un attimo. Aspetta. Dove sono le altre armi? Non lo scoprirei mai. Sto arrivando con una minigun aliena a laserarti. Qua deve essere, però, aspetta. Tra le pistolette ci deve essere quell'aliena. Steph, aspetta. No. Voglio le armi nuove, dai. Che roba. Non voglio combattere con delle armi banali. Che roba incredibile. Ecco, l'ho trovata. No, vabbè, raga. Sì, perché comunque i duelli sono comodissimi perché davvero la polizia non sta venendo. No, vabbè. Ma la vedete contro smitraglia? Ma l'hai provata la pistoletta? No, ancora no. È superganza, Steph. Ma spara sempre laser? Sì, però di cerchi laser. Ok, adesso la provo per non possibile. No, vabbè. Che potenza. Ma la minigun l'hai provata? No. Sta sul 3, mi pare. Non riesco a trovare i tasti, Steph. Non mi dici dove sta. Mi pare che sia il 3. Vediamo. Tre fucili a pompa, quindi. No. Non lo so. Mi hai lasciato il dubbio adesso. Ascolta, vai a provare a tutti. Ecco, sul 4. Ok, era il 4. Tu dici che colore l'hai fatta? Arancione. L'ho fatta platino, però è grigia. Non so perché. Raga. Cioè, non avevo mai visto un'arma così forte su GTA V. Sei lentissimo. Sei lentissimo quando la utilizzi. Eh, però hai sparato un po'. Sì, adesso. Chi mi ha... Ti ho laserato, Steph. Cioè, neanche ti sei reso conto di quanto ti sta succedendo. Straforte. Straforte. Proviamo questa. No. La pistoletta? Ma dai, ma stai scherzando? Aspetta, la voglio provare su un veicolo pure io. Ok. Ma che figata ne ho tirato fuori. Ma mi sbalza. È fortissima sui veicoli, Steph. Vabbè, vabbè, vabbè. Belle. Ah, la pistola ha colpi infiniti. Se guardi, hai una barretta in alto a destra. Che ti fa vedere dopo quanto si ricarica il colpo dopo. Ok. No, vabbè, perché in effetti... Uh, che colpo! Non riuscivo neanche a rialzare. Bella. Bellissima. Ti dicevo, perché infatti quando l'abbiamo acquistata non trovavo la sezione delle munizioni. Quindi ho intuito che fossero per forza. Ok. Continuiamo il nostro duello. È bellissimo. Con la pistoletta è fantastico. Aspetta, devo rimetterla. Steph, mi leva le armi quando muoio, quindi non mi puoi ricolpire. Ti ho presa a distanza. Perché la devo cercare. Uh, ti ho sferato. Brava, bel roll. Uh, mi hai investito l'auto. Aia! Sto facendo un disastro. Aia! Mi sei bastando di auto. E che ti noto a volare. Alzati! E muori, però. No, mi sei parato l'auto di fronte. Sì! Ho una HP. Che bella. Che schifo di fortuna che hai. Le auto mi hanno salvato la vita. Io pensavo te la uccidessero la vita, invece. È appena esplosa qualcosa. Vabbè, mi hanno distrutto, però sono rimasto un HP e mi hanno coperto dalla morte. Ok. Bella. Comunque, Steph. Belli è tutto quello che vuoi, ma che c'entrano col mondo di GTA? Cioè, sembra che siamo finiti in un piano italiano. Eh, ferro. Cioè, aggiungimi anche un piano italiano in cui andare a combattere, allora sono perfetto. Credo che ormai GTA non pensi più al contesto delle cose che mette. Esatto. Cose che volano e robe strane. Non so dove sei. Perché sto cercando di cechinarti, praticamente. Uh! Ti ho preso? Sì! Come? Eh, perché ha molta range, stella Zeki. Neanche ho visto il colpo arrivare. Camion, per favore. Oh! Dai, non avevi vita! Non hai mai vita! Tu fai schifo! Ho visto il duello! Incredibile. Che cechino dalla distanza, signori! Rega, questa è l'arma più bella del mondo. Adesso io devo andare a scoprire una cosa. Quindi devo chiamare, devo fare una chiamatina. Chi era? Pegasus. Mi pare proprio di sì. Non so, che devi fare? Chiamare un carro armato. Uh, bello. Comunque, nonostante siano totalmente fuori luogo su GTA 5. Non ci interessa nulla a noi. Non me ne frega nulla, sono bellissime, sono tamarrissime. Quindi per me è una cosa. Più è tamarra, più mi piace. Quindi non me ne frega niente. Allora. Potete fare anche un carro armato con le ali. A me va benissimo, capito? Non mi lamenterei mai, Steph. Beh, non vorrei giocare in una lobby pubblica in questo momento a GTA 5. Assolutamente no. Ecco. Lo sbalza un po'. Aspetta, ben lì sotto assestati nelle ruote? No. Non ce la fa. Troppo pesante. Sì. Aspetta. Palese, palese, palese. Che c'è? No, niente. Sto cercando di colpire benissimo nelle ruote. Un pochettino si è alzato, ma da qui da capovolgersi. Allora, dammi una mano con la minigun. Quindi vai di quattro. Lasciamole tra le preferite. Tre, due, uno. È bellissima. Una minigun laser è una delle cose più belle che io abbia mai visto. Ma guarda quanto lo stiamo bucando, poi. Cioè, sto finendo tutte le munizioni. È ovvio. Che costano un sacco queste munizioni, Steph. No, devo dire che il carroarmato rimane il carroarmato su GTA 5. Quindi rimane sempre perfetto nei nostri cuori, Steph. Ah, sta per arrivare la polizia perché a quanto pare si sono arrabbiati. Sì. Però... Posso esplodere il mio carroarmato? Non mi rompe. Stai iniziando a far fumo? Ho sbaglio? Ho forse il fumo della minigun. No, forse del carroarmato. Eh beh, dovrebbe. Cavolo. 3.000 caricatori. Spara il motore. Spara il motore. Magari cambia qualcosa. Eh, Steph. No, sta fumando, sta fumando. Ci siamo quasi. Prima che arrivi la polizia. Polizia, non ci ruvinare i giochi. Fattigli a fuori tu e mio il carroarmato. Posso fargli quello che voglio. Dai. Steph, sono a 7.000 colpi. Io a 5.000. Li sto delettando tutti. Li sto finendo. Ci spara la polizia. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Allora, io penso alla polizia e tu farlo esplodere. Vai, 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 vai. Ma Steph, sta roba è... Lo so. È immortale. Gli abbiamo fatto una nuova texture con tutti i colpi di proiettivo. È diventato bellissimo. Allora, Fede, sulla polizia devi vedere che cavolo è comunque nemmeno 3. Mi sto divertendo un botto. Mi è arrivato un laggio laser in faccia. Eh, Steph, non ci riesco. Sta roba non esplode. Sta prendendo fuoco? Vai che ci sei. Prende fuoco? Stai vedendo? No, perché... E girati. E' esploso, è esploso. E' esploso? Girati. Fammi vedere. Ci penso io all'aereo. Alleluia. Guarda quanto è bello sul... Vabbè. Ma penso arrivare a 5 stelle con sta roba, Steph. Beh, non sembra molto difficile. Non sembra molto difficile. A me non sono riusciti neanche a comprare. Ah, sì, a comprare. A sparare da quanto tu coprivi bene. Ho unito a sparare e... Ah, capisco. E coprire e mi è riuscito a comprare. Non so perché. Allora, io sono a 4 stelle, ad esempio. Io a 3, perché non stavo facendo niente. No, beh, certo, certo. Però dico, in pochissimo tempo, talmente forte... Se te la carichi in munizioni massime, fai il delirio, sta a fare i miei... Guarda, 5 stelle, siamo qui scopertissimi e non riescono a pigliarci. Cioè, assurdo. Ok. Assurdo, guarda. Laserato. Non riescono a prenderci. E neanche dire che siamo nel posto più aperto. Occhio che è pieno di polizia qua. Sì, devo far esplodere sta aereo. Si stanno coprendo bene loro, eh. Eh, mica sono scemi. 5 stelle. Io 4. Sono a 5 stelle. Incredibile. Che riuscivamo a raggiungerle solo col carre armato comunque bello rinforzato. Sì, ma è presente che l'avamo provato nella diga, un vecchissimo video. Sì, mi ricordo. Ed era il delirio incredibile e qua siamo scoperti a sparare a caso. Sì, in un punto neanche studiato della città, ma era un punto a caso perché stavamo facendo esplodere il carre armato assurdo. Io sono vicino alla mia morte. Belle. E infatti non ci siamo neanche organizzati con i giubbini. È finita. È finita la mia avventura. Io ancora 4 stelle. Vorrei arrivare a 5 prima di... Di schiattare? Esatto, sì. No, infatti non ce la faccio. Purtroppo no. Sì, perché bisogna organizzarsi con i giubbini. Non eravamo pronti per questo, ovviamente. Io ne ho fatte lo stesso, quindi... Belle, Steph. Io sono molto soddisfatta. Mi dispiace che non mi sono resa conto subito di questo aggiornamento. Dovresti chiedere perdono in ginocchio ai consolini. Sì, sono d'accordo. Mi dispiace perché io non succede mai che non mi accorga di cose così belle e così perfette per me, ovviamente, quindi... Non c'entrò nulla con te. È stata la mia mancanza, no, Steph. Qualsiasi arma letale che fa casino, che distrugge, che fa esplodere le cose è la mia arma. Guarda stessi in moto. Pronta? Guarda, guarda, guarda. Vai, 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 vai. Povero. Stai ancora bene? Vabbè, sono sbalzata. Al massimo sei fatto un po' male. Se continui, Steph, sta male, malissimo. Non c'è più. Vabbè, è svenuto per sempre. E posso sparare con quella pistola in moto? Io sono lontanissima, dove mi ha fatto nascere? No. Peccato, eppure è piccolina come arma. Ci sarebbe stato? Eh, cavolo, sì. In moto, sì, sarebbe stata fantastica. Infatti pensavo si potesse utilizzare perché poi tra le pistole... Ah, no, in effetti quelle che puoi usare un'auto in moto sono quelle nello slot a fianco, Steph, le mitragliettine. Come ti sei permesso? No, dimmi. Vabbè. Chiedi perdono in ginocchio. Bellissimo, bellissimo. Con chi c'erai, Steph? Con un tizio che mi ha investito. Dove stai tu, poi? Mi aveva investito. Ah, sei lì giù. Oh, siamo lontani. Così impari. Un altro. Aiuto! Penso che mi stanno per investire. C'è un metto di vizio in questa città. Criminali che non siete altri. Ok. Butto da qui. Sai che feeling dà quando itti? Cosa? Harry Potter. Perché? Non sembra tipo a maracchia nabra, cosa del genere. Ah, perché magia? Sì, in effetti un po'... Un po' lo ricordo. Cioè, però dovrebbe darti un feeling di futuristico, Steph. Eh, non so, ma come volano mi sembra quando con... In Harry Potter coprivano con le magie, capito? Con la bacchetta. C'è un'auto che prende poco qua. Con la pistola, ovviamente, raga, non si riesce a fare un grand che. Però è troppo divertente, quindi non importa. È proprio la mia arma preferita, francamente. È più della minigun. È più bella, secondo me. È più bella, molto più bella. In ogni caso, dai, ci fermiamo così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo che queste armi vi siano piaciute. Fateci sapere, magari, nei commenti. Qua sotto, come sempre, con per gli altri video. Iscrivetevi al canale Campellina e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao!